La lotta alla contraffazione non si ferma nemmeno d'estate. La Guardia di Finanza di Padova, durante i costanti controlli all'interno delle attività commerciali del centro in grosso Cina della zona industriale, ha sequestrato 16.450 articoli in pelle privi dell'etichetto e dei contrassegni recanti le indicazioni sulla composizione dei materiali, segnalando alla Camera di Commercio Padovana il rappresentante dell'azienda distributrice della merce, che rischia una pesante sanzione amministrativa. L'attività ha segnalata commercio, abbigliamento e accessori che sono stati tutti sequestrati dai baschi verdi. L'intervento della finanza parte dal costante monitoraggio delle attività presenti all'interno del centro in grosso Cina per tutelare il consumatore e il made in Italy.